La straordinaria armonia di queste terre, un'armonia di colori, di immagini, di suggestioni, di terre generose, terre ricche, fertili, accoglienti. Tutta un'armonia da ammirare, respirare, assaporare, che si rispecchia in una ricerca di bellezza, di benessere, di gusto, per star bene e godere dei prodotti della natura e della terra, della bellezza che ci circonda da sempre. Basta guardarsi intorno per sentire che è dal legame tra le abitudini, le persone e l'amore per la terra, che nascono i prodotti sani e buoni, in grado di soddisfare non solo il palato, ma anche il cuore. Il viaggio nella salumerie inizia da qui, dalla pianura padana, zona di produzione di molti esquisiti salumi famosi nel mondo, ma anche terra di nascita di grandissimi personaggi, come Giuseppe Verdi, emiliano e grande appassionato di salumi. Salumi che amava regalare agli amici più cari.